Non riesce a camminare da solo? Stiamo filmando l'orto di Valentino, ci dici in un aggettivo qual è la tua esperienza di orto? La mia esperienza è quasi quarantennale, quasi 40 anni che ho l'orto qui e l'orto mi aiuta, cioè mi dà tranquillità e vengo a passare delle ore di tranquillità quando posso, lo faccio a tempo perso, però vengo due o tre volte alla settimana e cerco di tenerlo il più ordinato possibile per quello che posso. Poi altre cose giustamente che dà anche la possibilità di socializzare anche con gli altri ortolani che ci sono, noi siamo tutti amici, ci scambiamo anche dei punti di vista uno con l'altro secondo la nostra esperienza, per cui in particolare ci teniamo molto a tenerlo e andare avanti diremmo così, come ho detto, cioè spettando un po' la nostra esperienza negli anni. Grazie Valentino. Almeno. Grazie